proseguendo nella lettura del vangelo secondo matteo e continuando a leggere la sezione del vangelo dedicata alla passione morte di gesù si arriva al brano del vangelo che ha per titolo uno di voi mi tradirà venuta la sera si mise a tavola con i dodici mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi mi tradirà ed essi profondamente rattristati cominciarono ciascuno a domandarli sono forse io signore ed egli rispose colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito meglio per quell'uomo se non fosse mai nato giuda il traditore disse rabbi sono forse io gli rispose tu l'hai detto grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima